Molti anni fa, Helios era una terra aperta, pacifica. Tutto questo grazie alla gemma Helios, capace di brillare così fortemente da sconfiggere le tenebre. Ma un giorno, Helios esplose magicamente, fantumandosi in mille pezzi. Da allora, molti uomini e creatori cercarono di impadronirsi dei cristalli. Per fermare tutto questo, si fecero avanti dei giovani eroi. Helsworth, un giovane combattente che utilizza una grande spada. Aisha, una piccola maga intelligente e vivace. Rena, un elfo che si destreggia ottimamente in battaglia grazie al suo arco e alle sue tecniche di calcio. Ren, metà uom, metà naso. Ivo, la principessa naso. Insieme, combatterono il male cercando di superare i loro limiti. Ma un giorno... Poveri sciocchi, non mi fermerete mai! Riuscirò a rubare tutti che stanno lì per i miei scopi e poi non riuscirete a far nulla! Riuscirò a rubare tutti che stanno lì per i miei scopi e poi non riuscirò a far nulla! Riuscirò a rubare tutti che stanno lì per i miei scopi e poi non riuscirete a far nulla! Ripresi dal combattimento, furono pronti per ricominciare il loro lungo viaggio. Ci mettiamo in marcia ora! Pronto a iniziare? Sì, sono pronta! Iniziamo! Bene, si parte! E la chiamate battaglia? Troppo facile! Non è bastato nemmeno come riscaldamento! Tutto qua non vale la pena aspettare il piatto con te! Però siete pronti? Che dite? Ci diamo una mostra! Durante i miei loro viaggi incontrarono nuovi alleati. Jun, l'erede della famiglia Saga. Ara, una giovane guerriera esperta negli attacchi veloci e nel saper utilizzare lo stile canici. Gli anni passarono e i nostri amici crescerono, aumentando le loro agilità e la loro forza nel combattimento. Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.